E ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale, quattordicesima missione di GTA V per PS5. Prima che lo scriviate nei commenti, sì, mi sono togliato i capelli. Ok, questa missione uscirà a marzo 2023, però ve lo spoilerò, questa live dove sto registrando GTA V in realtà è di giugno 2022, quindi insomma... Questo vuol dire che ci sono tanti video in programma, tanti video in coda, tante cose da fare. Ebbene così, perché teniamo il canale impegnato e questo è quello che mi interessa. Comunque ragazzi, nella scorsa abbiamo conosciuto Trevor facendo fuori non solo Johnny, vecchio conoscente di campagne già giocate, ma abbiamo fatto fuori anche Lost con una bella battagliuzza. E adesso, dopo che Franklin e Michael si sono un po' ritirati spiritualmente dopo il colpo alla gioielleria, è momento di fare conoscenza profondita con Trevor. Ovviamente, rimane il mio invito a lasciare like e iscrivervi al canale, a tutto quanto quello che ormai sapete, e noi... andiamo. Allora... La missione da programma dovrebbe essere il nervoso Ron. E lo ripeto, dovrebbe. Tanto abbiamo 108.000 dollari con Trevor, cioè praticamente all'inizio è proprio di gran lunga quello più ricco di tutti. Il che è golosissimo, perché possiamo almeno tipo andarci a tagliare i capelli e farci due tatuaggi bellini. Proprio così, al cazzo duro... Contro il muro. Diciamo che non c'è niente di nuovo rispetto al PS4, però questo taglio che tra l'altro è anche gratis, o come si dice, noi in Toscana, gratis e... Non so, gli... Insomma, gli dona. Si fa pedi. Sì, sì, sì. I tagli gratis sono anche quelli più belli. Stranissima questa cosa, di solito... Soprattutto nell'online le cose più belle te le fanno strapagare. Grazie, signora, per avermi fatto i capelli gratis. Ed io stavo aspettando la missione per Trevor, che dovrebbe essere appunto il nervoso Ron. Ma mi sa che Ron è ancora calmo, perché se no la missione sarebbe già spuntata. Non posso passare di qua, no. Non ho ancora tatuato Franklin e Michael, sinceramente, quindi... Tatuerò Trevor. Cioè, lo so come funzionano i suoi tatuaggi. Cioè, frights, guarda, guardami, guardami, lo so. Se ti scegli il tatuaggio che preferisci, ma davvero, di solito tu vai dal tatuatore e ti dice, guarda, io ti tatuo questo. O sì, o certo. Dai, ma davvero, dai. Allora. Allora. Premessa. Anche nella vita reale. A me non piacciono i tatuaggi belli. A me piacciono i tatuaggi grandi. Tipo questo. Quindi, più grande è. Meglio è. Tanto lui ha già un tatuaggio. Lo scritto Rip Michael. Fratello. Non è che facendo un altro tatuaggio tipo si... Si viene rimosso? No. Ok, perfetto. Ma posso fare anche più tatuaggi tipo? Fuck copse ci sta. Sì. Ma puoi farti più tatuaggi insieme? Io grodolo. Io grodolo. Questo tatuaggio qua ragazzi devo farlo anch'io. Ci faccio la foto. Questa faccina qua me la farò anch'io. Promesso. Tanto ormai... La carta si lascia scrivere. Braccio destro. Uno. E due. Uno e due. Uh. Uh. Eh, però se hai vestito così, zio, e... I tatuaggi sono un pochino... Risultati. A questo punto, cioè... Avevimo fatto 30... E facciamo 31, no? Cerchiamo un po' di migliorare questo bolide qui. Bo, sto chiamando gente a caso. My answering machine is... My answering machine addirittura. Ti prego non farmi male. La reputazione di Trevor. Ah, per legare. Troppo bello. Comunque va bene. Non sarà... Il nervoso Ron sarà un cambio di programma. E andremo da C per la prossima missione. E lo dico, no? Potrei fare la campagna vecchio stile come la facevo per PS4? Perché c'è già GTA V sul mio canale. Dove, vabbè, c'è l'intro. Missione secca. Littan. Sicuramente mi porterebbe via meno tempo di editing. Però... Non so, dato che comunque sono un recap di live che faccio... Mi piace anche un po' gustarmelo questo gioco, sinceramente. Perché... Davvero questa è l'ultima volta che lo porto. Ma perché sono sceso dalla macchina prima di andare da... Eh, ragazzi. Scusate. Quale è di due? Ah, tutte e due, ok. Di stanno? Di stanno? Di stanno? Di stanno, di stanno? No, vabbè, questo è il top Luci, fari Ok Comunque, per chi me lo stesse chiedendo, o se lo stesse chiedendo, non sto modificando parti del motore per un semplice motivo very, very easy Ovvero, che non avrebbe senso, perché se lo modificassi col meglio che c'è, poi comunque dovrei tornare tra qualche missione e ripotenziare un'altra volta E non ha senso, non ha senso Porpo, ragazzo Insomma, sto ben rosso così ci sta al meglio, guarda Oh, turbo, ruote Fuori strada 53.000 Che cazzo le fanno quelle ruote lì, ragazzi? Gomme antiproiettile e vivo nel culo a tutti per davvero A posto Sono le 23.27, certo se andassi a salvare perderai un casino di tempo, quindi vabbè Per una volta si può fare l'ambizione di notte, dai Fuori dai coglioni Per una volta si può fare l'ambizione di notte, ragazzi Accorci Accorci I'm really concerned about my dog Trevi You're still banned What about these two? Whoever wins gets banned He's one, ban him I can't ban him, he's my goddamn husband He's young enough to be your son Ain't the internet a beautiful thing, honey Anyway, I saved your husband Now get me a drink I got a meeting Okay, but any more bodies turn up in my bar I swear, I swear, I will not serve you Mr. Phillips Ah, here he is Yes, Mr. Chang, pleasure to meet you No, I am Mr. Chang's humble translator Mr. Chang, now What the hell are you going to do with me? Yes, baby What the hell are you going to do with me? We can do it together Mr. Tao Chong is pleased to meet your acquaintance Oh, yeah, he seems it What the fuck is wrong with him? è la risposta che questa è la risposta proprio più camaleontica che esista è la risposta che sta bene dappertutto a me che cazzo me ne frega c'è proprio la risposta che è come risposta prezzemolosa c'è tipo sta bene dappertutto ovunque la dici comunque la dici sta bene comunque scusate la digressione ma mi è venuta proprio d'arcore come dicono qua a Roma andiamo dal laboratorio dal laboratorio sì perché il laboratorio è un amico giustamente è vero che il tuo boss non vuole questo crank per la sua propria consumazione no no Mr. Chang Sr. è molto specifico vuole una buona fondazione di metà e metà e metà eccoci e distribuiamo utilizzando un'attività di metà che sta bene da luce senti trevor, non ci siamo arrivati wow 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 manor shaft questi sono i nostri guesti, ok? ok we got Mr. Chang and his humble servant hey! Laosciung! ho 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 nice to meet you trevor, we ain't got long till they get here everything in it's time, alright? gentlemen, please come check out the storage facilities go on now nice right? aw, bua! ha ha! apple room inside Mr. Chang, please, sir, if you will let me out! get me out! si fan? Trevor Se non fa del casino Non è contento Si ammiglia da un lato Uomini di ortiga Vanno in figa Detto mare Ah da lì Fuochi artifici Spettavolo Vado me la fuma Ok Il settore ospiti è andato D'altra parte Guarda che se sto perdendo troppa vita Perché te ti devi mettere qui Che è fatto Dio forse di qua Lo piglio Sono qua gli altri due Aspetta che ti prendo così Amigo Aiuta Arrivo amigos Stacamo Necessitas Aiutas E c'è un amico solo Fai cagare Fai cagare Fai cagare Vai Bella C'è questa missione Molto Call of Duty Chiusa Adesso vi fucilo tutti per bene Sì anche se a volte dovrei imparare Dovrei imparare che L'abilità Non ti esime Da non perdere vita Mamma mia È rimasto un bastardo solo Adesso più manco quello C'è una macchina Svinte granate Ok Proprio sul più bello Da manuale Da manuale Sta musica qua ragazzi Mattizza E Nanko Paul Non vorrei morire adesso Te lo dico Ok vabbè Risparmiamoli anche perché Credo che prenderli Non deve essere così facile Disposore di ghiaccio Sono salito per niente Ok È vero c'è Chang dentro Ricorda molto La missione Dicita Quattro Crime and Punishment Credo sì Che Roman Si va a nascondere Dentro i bidoni Della spazzatura Qua sono bidoni Del ghiaccio Tarabarala Siamo lì eh Ok Trevor Phillip Industries è andata Non mi dare il 50% Con due morti in più Potevamo fare meglio Ma non ci si lamenta Tanto non è questa la macchina Su cui devi salire Coglione Ok beh Quindi È solo questione Di dover tornare alla base E salutarci La base è qui E sì Lo so Ho perso tanto Tanto tempo Nel provare A rendere Trevor Una persona migliore Cosa che comunque Tutti sanno Che Praticamente È impossibile E noi Qui ci lasciamo Esattamente qui Perché poi Se no Se mi avvicino troppo So cazzi Io vi invito A lasciare un like Al video E iscrivervi al canale Ci vediamo Per la missione numero 15 Che sarà per Trevor E sarà Sicuramente Nervous Ron A questo punto ragazzi Se 2 più 2 fa 4 La missione sarà quella E allora Vi rinnovo i miei saluti Ci vediamo sempre Appuntamento 3 volte alla settimana Non mancate su questo canale Bacione Allora E Beep, beep, beep.